I consiglieri comunali di Caltanissetta, Toti Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti hanno presentato un'interrogazione sulla tregua fiscale introdotta dalla manovra di bilancio 2023. I rappresentanti di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale Nisseno chiedono che si renda noto ai cittadini la posizione dell'amministrazione comunale sulla sanatoria inserita nella legge di bilancio 2023 riguardante le cartelle di Imo e Tari emesse fra il 2010 e il 2015. La legge prevede che entro il 31 gennaio i comuni italiani tramite un'apposita delibera decidano se accettare anche in forma parziale la sanatoria prevista. In mancanza dell'apposita delibera si applica comunque lo stralcio di sanzioni e interessi a meno che l'amministrazione comunale dichiari il contrario come fatto da alcuni comuni d'Italia. Inoltre i consiglieri comunali chiedono che venga pubblicizzata attraverso i canali istituzionali l'eventuale possibilità per i cittadini di attuare la pacificazione tributaria con l'ente comunale. La legge di bilancio 2023 ha infatti introdotto una serie di strumenti volti a ridurre da un lato il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e dall'altro il magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione mediante lo stralcio dei carichi fino a 1000 euro inclusi nelle cartelle 2000-2015 nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1 gennaio 2030-giugno 2022.